Il pane dell'amore La domenica. Questa domenica è detta delle palme o della passione del Signore. Il motivo è semplice perché è stata così definita. Per antica tradizione liturgica del rito cattolico si ricorda in questo giorno l'ingresso di Gesù in Gerusalemme accolto come Messia e Re da una folla festante agitante rami di olivo o di palma. Da qui il rito della benedizione delle palme in ricordo di questo ingresso del Principe della Pace nella Città Santa e quindi giornata di riconciliazione e di pace. L'usanza di scambiarsi la palma benedetta in segno di pace e di riconciliazione rimanda proprio a questo bisogno di pace. Quest'anno tale rito non si potrà svolgere in modo solenne in quanto in Italia e altrove siamo in pieno periodo di epidemia. Per cui non si possono svolgere celebrazioni con la presenza dei fedeli, disposizioni che vengono dall'autorità della Santa Sede e dai vescovi italiani in rispetto alle norme per quanto riguarda il contenimento della diffusione del coronavirus in Italia. La celebrazione della domenica delle palme dovrà avvenire all'interno dell'edificio sacro e si richiede che le cattedrali adottino la seconda forma prevista dal messale romano. Invece nelle chiese parrocchiali questo rito della benedizione e processione con le palme non avrà luogo. Non è prevista nessuna benedizione né processione, ma soltanto la messa con l'azienza del popolo, in questo caso forzata in osservanza delle norme sanitarie. Detto questo, ecco, la domenica delle palme si caratterizza quest'anno con domenica della passione in quanto nella liturgia della parola di Dio è prevista la lettura del racconto della passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo che sul nostro video verrà fatta nel modo integrale subito dopo la proclamazione dell'Evangelio di Matteo che narra l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ma nella celebrazione della messa ci sono anche le altre letture, le prime due letture della liturgia odierna fanno proprio stretto riferimento al mistero della passione e morti in croce del Signore. E qui sempre c'è la voce forte del profeta Isaia Il profeta Isaia traccia le sembianze umane del futuro Messia, il crocifisso ma notate a tal punto che quando effettivamente si verificheranno queste cose spontaneamente ci si richiamava alla descrizione fatta dal profeta sette secoli prima proprio alla stessa maniera. Il Signore Dio, dice il profeta, parlando a nome del Messia, il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ha sottratto la faccia agli insulti e agli esputi. Vedete amici, è qui anticipato il modo proprio con cui tratteranno Gesù dopo la condanna a morte. Tutto quello che il Signore ha subito a causa della cattiveria dell'essere umano che ha trattato in quel modo colui che era venuto a salvarci e a portare la pace. Nella seconda lettura di oggi San Paolo Apostolo, nel celebre inno cristologico della lettera agli Efesini, non fa altro che sintetizzare la natura di Cristo, la missione di Cristo incentrata proprio sull'opera della redenzione del genere umano mediante l'incarnazione, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Viene qui spiegato il secondo mistero principale della nostra fede. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, omigliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio Padre. Cerchiamo di attualizzare un po' questo momento in questa liturgia domenicale. La prima volta, questa è nella storia della Chiesa italiana, dopo il secondo conflitto mondiale e dopo la celebrazione del Concilio Vaticano II, che non possiamo appunto celebrare questa festa con i riti nel modo previsto. Quindi, possiamo dire davvero una Domenica della Passione di Cristo, antecipando di fatto quella che è la giornata del Venerdì Santo, che come tutto il Triduo Pasquale ha avuto dei cambiamenti liturgici, con la riforma liturgica, in ragione di questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che speriamo passi presto. La Passione di Cristo, con i suoi vari aspetti, la stiamo vivendo ogni giorno, da quando conosciamo dettagliatamente le tante sofferenze dei nostri connazionali e anche di altri cittadini del mondo che non sempre riescono a superare la polmonite causata dal coronavirus. Infatti, contiamo, nella solità, gli decine di migliaia di morti in due mesi di diffusione del virus mortale. La sofferenza delle famiglie che hanno perso i loro cari senza poter dare neppure un saluto finale con la celebrazione del rito fonebre. La sofferenza di quanti hanno dovuto chiudere le attività lavorativi, e stanno incontrando seri problemi economici per andare avanti. Amici, la Passione di Cristo la stanno sperimentando, come ha detto Papa Francesco, i tanti crocifissi di oggi che vivono in una situazione di precarietà, di mancanza proprio dell'essenziale, ma anche di quanti lottano da tempo contro la fame, la miseria, la malattia, la guerra, e si fanno operatori di pace, di giustizia e di difesa del creato. Sono questi i nuovi messaggeri di speranza messianica che Cristo venne a portare all'umanità con il suo ingresso nella città santa, che prima lo accolse festante e poi lo condannò a morte. Anche se oggi non possiamo benedire e farvi pervenire a causa le palme benedette, io ne ho più una esposta accanto al crocifisso, ma è dello scorso anno. Comunque condividiamo una palma virtuale con tutto il carico dell'affetto, della vicinanza a ciascuno di voi e soprattutto a quanti soffrono per tantissimi noti motivi di ieri e soprattutto di oggi in tempo di Covid-19. Allora, facciamo nostra questa bellissima preghiera a Gesù Corcifisso di Papa Francesco, recitata a conclusione della Via Cruzi di San Colosseo nel Venerdì Santo dello scorso anno. che è il motivo dominante di questa Domenica speciale, detta delle palme, ma di fatto vissuta come Domenica della Passione di Cristo alla quale partecipiamo tutti in quanto battezzati e in quanto cristiani. Ecco la preghiera. Dice così. Chi vuole venire dietro me rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, l'ha detto Gesù. E noi siamo consapevoli che non c'è vero cristiano senza la croce di Cristo. Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua croce tutte le croci del mondo, la croce delle persone affamate di pane e di amore, la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti, la croce delle persone assetate di giustizia e di pace, la croce delle persone che non hanno il conforto della fede, la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine, la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici, la croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza, la croce dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità della cultura del momentaneo, la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o dall'omicidio e dall'eggerezza e dall'egoismo, e la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati. La croce dei consacrati che strada facendo hanno dimenticato il loro primo amore. La croce dei tuoi figli che credendo in te e cercando di vivere secondo la tua volontà e la tua parola si trovano emarginati, scartati perfino dei loro familiari e dei loro coetanei. La croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante. La croce della tua Chiesa che fedele al tuo Vangelo fatica a portare il tuo amore perfino fra gli stessi battezzati. La croce della Chiesa, la tua sposa che si sente assalita continuamente dall'interno e dall'esterno. La croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dalla ventità e dal potere. Signore Gesù ravivi in noi la speranza della risurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen. Amici, possa questa speciale domenica delle palme deprivata da tanti motivi di gioia e condivisione aprire qualche barlume di speranza per il futuro dell'Italia e del mondo toccato pesantemente da questo virus mortale e destabilizzante delle relazioni umane e internazionali. Adesso buon ascolto dei due brani evangelici uno dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme l'altro della passione del Signore. dal Vangelo secondo Matteo quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il monte degli Ulivi Gesù mandò due discepoli dicendo loro andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro slegateli e conduceteli da me e se qualcuno vi dirà qualcosa rispondete il Signore ne ha bisogno ma li rimanderà indietro subito ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta dite alla figlia di Sion ecco a te viene il tuo re mite seduto su un'asina e su un puledro figlio di una bestia da Soma i discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù condussero l'asina e il puledro misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere la folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada la folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava osanna al figlio di Davide benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna nel più alto dei cieli mentre egli entrava in Gerusalemme tutta la città fu presa da agitazione e diceva chi è costui e la folla rispondeva questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea in quel tempo uno dei dodici chiamato Giuda Iscariota andò dai capi dei sacerdoti e disse quanto volete darmi perché io ve lo consegni e quelli gli fissarono trenta monete d'argento da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua ed egli rispose andate in città da un tale e ditegli il maestro dice il mio tempo è vicino farò la Pasqua da te con i miei discepoli i discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua venuta la sera si mise a tavola con i dodici mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi mi tradirà ed essi profondamente rattristati cominciarono ciascuno a domandargli sono forse io signore sono io sono io signore sono forse io signore ed egli rispose colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito meglio per quell'uomo se non fosse mai nato giuda il traditore disse rabbì sono forse io gli rispose tu l'hai detto ora mentre mangiavano Gesù prese il pane recitò la benedizione lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse prendete mangiate questo è il mio corpo poi prese il carice rese grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del padre mio dopo aver cantato l'inno uscirono verso il monte degli olivi allora Gesù disse loro questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo sta scritto infatti percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del greggio ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea Pietro gli disse se tutti si scandalizzeranno di te io non mi scandalizzerò mai gli disse Gesù in verità io ti dico questa notte prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte Pietro gli rispose anche se dovessi morire con te io non ti rinnegherò lo stesso dissero tutti i discepoli allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Gezzemani e disse ai discepoli sedetevi qui mentre io vado là a pregare e presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate con me andò un poco più avanti cadde faccia a terra e pregava dicendo padre mio se è possibile passi via da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora vegliate e pregate per non entrare in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole si allontanò una seconda volta e pregò dicendo padre mio se questo calice non può passare via senza che io lo beva si compia la tua volontà poi venne e li trovo di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti li lasciò si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole poi si avvicinò ai discepoli e disse loro dormite pure e riposatevi ecco l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori alzatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino mentre ancora egli parlava ecco arrivare Giuda uno dei dodici e con lui una grande folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo il traditore aveva dato loro un segno dicendo quello che bacerò è lui arrestatelo subito si avvicinò a Gesù e disse salve rabbì e lo baciò e Gesù gli disse amico per questo sei qui allora si fecero avanti misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono ed ecco uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio allora Gesù gli disse rimetti la tua spada dal suo posto perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno o credi che io non possa pregare il padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire in quello stesso momento Gesù disse alla folla come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa presso il quale si erano riuniti gli scrivi e gli anziani Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte ma non la trovarono sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni finalmente se ne presentarono due che affermarono costui ha dichiarato posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni il sommo sacerdote si alzò e gli disse non rispondi nulla che cosa testimoniano costoro contro di te ma Gesù taceva allora il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo il figlio di Dio tu l'hai detto gli rispose Gesù anzi io vi dico d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo abbestemmiato che bisogno abbiamo ancora di testimoni ecco ora avete udito la bestemmia che ve ne pare e quelli risposero è reo di morte allora gli sputarono in faccia e lo percossero altri lo schiaffeggiarono dicendo fai il profeta per noi Cristo chi è che ti ha colpito chi è che ti ha colpito chi è che ti ha colpito Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile una giovane serva gli si avvicinò e disse anche tu eri con Gesù il Galileo ma egli negò davanti a tutti dicendo non capisco che cosa dici mentre usciva verso l'atrio lo vide un'altra serva e disse ai presenti costui era con Gesù il Nazareno ma egli negò di nuovo giurando non conosco quell'uomo dopo un poco i presenti gli si avvicinarono e dissero a Pietro è vero anche tu sei uno di loro infatti il tuo accento ti tradisce allora egli cominciò a imprecare e a giurare non conosco quell'uomo e subito un gallo canotò e Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte è uscito fuori pianse amaramente venuto il mattino tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire poi lo misero in catene lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato allora Giuda colui che lo tradì vedendo che Gesù era stato condannato preso dal rimorso riportò le trenta monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo ho peccato perché ho tradito sangue innocente ma quelli dissero a noi che importa pensaci tu egli allora gettate le monete d'argento nel tempio si allontanò e andò a impiccarsi i capi dei sacerdoti raccolte le monete dissero non è lecito metterle nel tesoro perché sono prezzo di sangue tenuto consiglio comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia e presero trenta monete d'argento il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele e le diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo sei tu il re dei giudei Gesù rispose tu lo dici e mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano non rispose nulla allora Pilato gli disse non senti quante testimonianze portano contro di te ma non gli rispose neanche una parola tanto che il governatore rimase assai stupito a ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta in quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba perciò alla gente che si era radunata Pilato disse chi volete che io rimetta in libertà per voi Barabba o Gesù chiamato Cristo sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandò a dire non avere a che fare con quel giusto perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù allora il governatore domandò loro di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi e quelli risposero Barabba chiese loro Pilato ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo tutti risposero si è consipisso ed egli disse ma che male ha fatto essi allora gridavano più forte si è pacifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto aumentava prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo non sono responsabile di questo sangue pensateci voi e tutto il popolo rispose il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa lo spogliarono gli fecero indossare un mantello scarlatto intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra poi inginocchiandosi davanti a lui lo deridevano salve re dei giudei sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo dopo averlo deriso lo sfogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero via per crocifiggerlo mentre uscivano incontrarono un uomo di cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce giunti al luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele e gli lo assaggiò ma non ne volle bere dopo averlo crocifisso si divisero le sue vesti tirandole a sorte poi seduti gli facevano la guardia al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna costui e Gesù il re dei giudei insieme a lui vennero crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo e dicendo tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce così anche i capi dei sacerdoti con gli scrivi e gli anziani facendosi beffe di lui dicevano ha salvato altri e non può salvare se stesso è il re di Israele scenda ora dalla croce e crederemo in lui ha confidato in Dio lo liberi lui ora se gli vuol bene ha detto infatti sono figlio di Dio anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio verso le tre Gesù gridò a gran voce che significa Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato udendo questo alcuni dei presenti dicevano costui chiama Elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna la inzuppò di aceto la fissò su una canna e gli dava da bere gli altri dicevano lascia vediamo se viene Elia a salvarlo ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo la terra tremò le rocce si spezzarono i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù alla vista del terremoto e di quello che succedeva furono presi da grande timore e dicevano davvero costui era figlio di Dio vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo tra queste c'erano Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe anche lui era diventato discepolo di Gesù questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato Giuseppe prese il corpo lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro se ne andò lì seduta di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria il giorno seguente quello dopo la parasceve si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo Signore ci siamo ricordati che quell'impostore mentre era vivo disse dopo tre giorni risorgerò ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno perché non arrivino i suoi discepoli lo rubino e poi dicano al popolo è risorto dai morti così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima Pilato disse loro avete le guardie andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie di ogni frumento cucito Dio Signore pane di vita il tuo corpo per tuoi con miele dalla roccia uccisanzi o Signore e vonda di soltezza e il tuo sangue per noi